Certo, perché... Offrire il più ampio supporto, anche finanziario, per il riavvio delle attività didattiche in sicurezza. Il governatore Donato Toma ha inviato una lettera ai sindaci e ai presidenti delle province e al rettore dell'Unimol allo scopo di procedere ad una ricognizione dei fabbisogni. Si va dal trasporto, acquisto o noleggio di bus, acquisizione e servizi aggiuntivi, ai piccoli interventi per adeguare gli spazi negli edifici scolastici, dai canoni di locazione per locali da adibire ad attività didattica, la strumentazione per la didattica a distanza. E sono 400 le aspiranti matricole di medicina che giovedì sosterranno la prova per l'accesso alla facoltà nel secondo edificio polifunzionale dell'Unimol. Causa Covid, come per i concorsi, i test di ingresso si svolgono nella regione di residenza, quindi in Molise e tutti i molisani che provano ad entrare nelle varie facoltà di medicina, indipendentemente dall'Ateneo. Il 3 settembre tutte le attività didattiche di ricerca del polifunzionale saranno sospese fino alla fine della prova, fino alle 15, quindi non sarà consentito l'accesso al pubblico e agli studenti, ma solo al personale addetto alla struttura. L'accesso alla sede della prova sarà consentito solo ai candidati, gli accompagnatori non avranno accesso né ai locali interni né alla zona antistante e gli spazi adibiti all'identificazione. Le lezioni del nuovo anno accademico partono il 23 settembre, grazie alle aule realizzate e alle nuove dotazioni tecnologiche, l'Università riprenderà tutti i corsi in presenza, come anticipato dal Rettore Luca Brunese, garantendo agli studenti l'accesso in sicurezza secondo le modalità indicate dal Ministero e senza necessità di comunicazione preventiva o prenotazione del posto in aula. Agli studenti che non fossero in grado, per qualsiasi ragione, di raggiungere la sede dei corsi, la didattica sarà garantita in modalità a distanza. Grazie. 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 Grazie.